Gino! Rivedendolo, ho cambiato parecchio giudizio, nel senso che, vabbè no, insomma, si capisce le vie che apre, a mio parere parecchio, non nei personaggi, ma nel paesaggio che fa vedere, è un'Italia diversa, è la scoppa, però la cosa strana, io questo non me lo ricordavo, è che rivedendolo, io sostengo, facendo torto al mio amico Massimo Girotti, chi recita meglio là è la Clara Caramai, mi sembra il meglio, paesaggio e di quelle figure, questa immagine di donna, questo volto, davvero così complesso, complicato, tra ardita, disperata, maledetta, insomma, quello mi pare la cosa migliore del film, poi per il resto era un film che arriva alla strada. Io credo di aver visto 4 o 5 volte questo film, anche se non è stato il primo film di Visconti che ho visto, è difficile dire quali sono i film che segnano la propria vocazione o quelli che determinano la propria passione per il cinema, io mi ricordo che la prima volta che ho visto mi sono rimasto imprese delle cose che in seguito, rivedendolo, non ho più ritrovato, o forse appartenevano ad un altro film, talvolta capita che un film come un fiume lasci dei depositi alluvionari di altri film.